Una tragica notizia ha gettato nello sconforto il mondo del calcio, colpendo duramente l'ex stella della Serie A, Naldo. Il calciatore si trova ora ad affrontare un lutto insopportabile, poiché suo figlio di soli quattro anni è stato portato via da questa vita. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti. L'annuncio di questa triste perdita è stato fatto dal club turco, presso il quale Naldo attualmente milita. La notizia ha provocato un'ondata di sgomento in tutto il mondo del calcio, poiché nessuno si sarebbe mai aspettato una tale sciagura. Questo è un momento straziante per Naldo, poiché superare la perdita di suo figlio sarà un'impresa titanica. Il mondo del calcio si stringe attorno a lui in un abbraccio di solidarietà in questo momento di immenso dolore. Il figlio di Naldo era stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale per oltre un mese, a seguito di un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto. Le lesioni riportate nell'incidente si sono rivelate troppo gravi e purtroppo il piccolo non è riuscito a sopravvivere. Naldo, che ha vestito la maglia del Bologna per sei mesi in Serie A, ha anche giocato per diverse squadre internazionali, tra cui il Getafe, lo Sporting Lisbona, il Krasnodar, lo spanol e l'Antal Spor. La notizia della tragica perdita del suo amato figlio ha scosso profondamente il mondo del calcio e tutti coloro che lo hanno seguito lungo il suo percorso calcistico.